Buona notte, un concerto che la baseggia riformata da scuola su questo trip, con forza, può dire, ho neccato, esi un componista da Roma e Pomme. E là, Denise de Rougemont ci deve un grande mide dell'idea di Dolf, la figura di Nicolaus von Flure. E Nicolaus è stata d'una, al songe ci ha veramente salvato l'idea della Svizzera. C'è una musica che conosce tutte le armonie, che conosce il tempo contemporane, che è una basata della terza, l'accord speciale, e di tutto quello. Grazie. 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 Grazie.